Negli anni ho imparato che attenzione, cura e amore sono ingredienti fondamentali per portare gioia agli altri. La stessa cura e attenzione di cui abbiamo bisogno, specie quando siamo più fragili. Vaccinarsi è importante per essere coperti contro influenza e Covid-19. I vaccini sono lo strumento più efficace per limitare la circolazione dei virus, proteggono e riducono il rischio di ammalarsi gravemente. Vacciniamoci perché sentirsi protetti dà più gusto alla vita. Grazie a tutti.